Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso Facebook, attraverso il nostro canale di YouTube. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura di oggi del Gazzettino di Belluno. Come sempre però prima di iniziare leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi di giovedì 14 novembre 2019. E' meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere sempre ragione. La citazione è di Albert Einstein e con questa citazione addentriamoci nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia in primo piano è riferita ovviamente alla situazione del maltempo che sta vivendo il territorio bellunese, ma non solo il nostro. Allerta meteo, le scuole chiudono dopo la pausa di ieri, oggi nuove precipitazioni in provincia. La prefettura indica 22 aree da codice rosso tra Alpago e Feltrino. Bottacin convoca i sindaci, temiamo rischi idrogeologici. Poi in serata arriva la decisione. In 38 comuni, studenti a casa. E sempre dalla prima pagina, truffe per l'energia schedati i venditori. Ieri in prefettura ha predisposto un piano anti-raggiri insieme agli enti gestori. La foto di prima pagina è dedicata ad Auronzo. Il comune studia come gestire l'invasione di auto. Misurina, tre idee per parcheggiare. Pannelli per indicare la disponibilità di posti. Prenotazione dei parcheggi online. Una rotonda alla loita. Ipotesi allo studio per regolare l'assalto alle tre cime di Lavaredo. Altri richiami dalla prima pagina. Diabete, 6.000 pazienti per oltre 10.000 visite. Canale d'Agordo alla Valle di Garesse apre il centrofondo Franco Manfroi. Castellavazzo, giallo nel veneziano. I parenti del gelataio sarà sepolto qui. Cordoglio ed emozione a Castellavazzo, Longarone, ponte per la scomparsa del gelatiere. Felice Olivier, l'uomo, 74 anni, è stato trovato con la gola squarciata da tre coltellate e una profonda ferita alla nuca mercoledì mattina nella villetta a Gruaro, nel veneziano, dove abita la donna che frequentava. Ancora dalla prima pagina, feltre, umido e vetro, nei cassonetti con le chiavette, cortina, inizio record per gli albergatori. C'è da attendere. Iniziamo quindi a sfogliare questa edizione del Gazzettino di Belluno, un'edizione che si apre con la notizia in primo piano che avete sentito dalla prima pagina, ovvero allerta meteo in provincia. Codice rosso in Valbelluna, in quota rischio valanghe, a fondo valle, fino a 100 mm di pioggia in 18 ore, possibili esondazioni dei torrenti e smottamenti. Il manto di neve fresca toccherà anche un metro e il vento di scirocco favorirà possibili distacchi. Questo è l'annuncio dell'assessore regionale Bottaccine. Sia ben chiaro che non si tratta di un'altra vaia, ma dobbiamo essere preparati. Oggi scuole chiuse, si teme il peggio. Sono 38 i comuni che hanno deciso di non rischiare sul fronte sicurezza. Non si esclude che il provvedimento possa essere steso anche a domani. Jacopo Massaro, primo cittadino del comune di Belluno, so che la misura è impattante per le famiglie, ma è la migliore in casi simili. E a Feltre è bloccato anche il mercato e attivazione del centro operativo. Allertamento, il comune di Feltre apre il centro operativo comunale COC nelle concitate ore di ieri sera, la concentrazione primaria dei primi cittadini è stata quella di decidere la chiusura o l'apertura delle scuole presenti nel territorio comunale. Successivamente si è pensato anche cosa fare per garantire la sicurezza di tutta la comunità. E per quanto riguarda la Gordino, rivive l'angoscia e preferisce peccare di zelo ad alleghe weekend lungo per gli studenti che torneranno in classe solo lunedì. Sempre per quanto riguarda il maltempo, lo avete sentito anche ieri all'interno di Edicola Belun, quanto ha vissuto Venezia, Federalberghi vicino a Venezia, questo è il titolo del gazzettino. Sappiamo cosa sia dover fare i conti con l'emergenza. Questo è il commento del presidente di Federalberghi per quanto riguarda la provincia di Belluno, ovvero Walter de Cassan. Cambiamo argomento, soprapasso scivoloso, studenti a gambe all'aria. Il fatto è accaduto nel capoluogo belunese, grandi scivoloni sul sovrapasso di Viale Europa. ha tolto l'accesso alle strisce pedonali, gli studenti utilizzano in massa la struttura in metallo che sovrasta la via a pochi metri dalla rotonda dell'ospedale, ma pioggia e freddo creano un mix davvero pericoloso. Il summit, abbiamo anche avuto un richiamo in questo caso dalla prima pagina, tre truffe al giorno, un virus secco la cura. Ha presentato ieri il piano anti-raggiri messo a punto dalla prefettura, coinvolti più enti verranno schedati i venditori porta a porta sul territorio. I dati dimostrano che il fenomeno è in crescita. Nel 2019, 876 denunce, il 60% delle vittime ha tra i 30 e i 60 anni. E a proposito del prefetto, il saluto. Francesco Esposito se ne va, tre anni e mezzo di emozioni e lavoro, un album di foto che porterò nel cuore. Il mio obiettivo era fare rete tra istituzioni e comunità. Spero di esserci riuscito. Notizia che riguarda la sanità belunese. In provincia, 5.700 diabetici, l'USL punta alla prevenzione. Nella giornata mondiale dedicata alla patologia, l'azienda fornisce il quadro della sua diffusione nel nostro territorio. E ancora un fatto di cronaca nera. Ladri all'opera di giorno. Ancora ladri in azione in città. È accaduto ieri quando i malviventi hanno agito persino in pieno giorno e in pieno centro. Siamo nel comune di Belluno. In un caso, la proprietaria era nella sua abitazione, in via dell'Anta, e ha udito distintamente qualcuno che cercava di forzare la serratura della porta d'ingresso. Ha lanciato un urlo e le persone sono scappate. Ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, ma i ladri si erano già dileguati. Feltre, novità per quanto riguarda la raccolta differenziata. Umido e vetro, arriva la chiavetta. Come per carta e plastica, nel conferire il resto dei rifiuti, dalla primavera bisognerà dotarsi della carta magnetica. Il comune acquisterà così 300 nuovi cassonetti intelligenti. La spesa complessiva si aggirerà attorno ai 500 mila euro. Sempre da Feltre due notizie. Studenti sui banchi combattono l'abusivismo. Normative e professionisti salgono in cata dall'Istituto Negrelli. Il tema dell'abusivismo edilizio è molto delicato e richiede una profonda conoscenza delle normative sia a livello legislativo che professionale. E ancora da Feltre, giro di droga. Cinque giovani ora riscano il processo. Ancora un giro di spaccio di droga a Feltre e Feltrino approdato di fronte al giudice in Tribunale a Belluno ieri mattina. È l'ennesimo caso in pochi giorni e vede cinque giovani che rischiano il processo. Ieri mattina doveva celebrarsi l'udienza preliminare in cui si doveva discutere del rinvio a giudizio, ma è stato tutto rinviato al 30 gennaio per un difetto nelle notifiche degli atti. Sempre dal Feltrino siamo a Santa Giustina. Unifarco incentiva e premia. Nuovo integrativo per i 400 addetti. Ciascuno avrà una scheda valutativa. Circa 2.000 euro in testa in più per il 2019. Le obiettivi condivisi e spirito di squadra. Massimo Slaviero, abbiamo integrato gli interessi del singolo con quelli dell'azienda. Questo è il commento ed il pensiero dell'amministratore delegato di Unifarco. Ceggio Maggiore, donatori, nuova baccheca e aiuti per il post. via Fonzaso a teatro con la Proloco. Domenica si torna sul palco. Per maggiori informazioni andate a visitare il sito della Proloco di Fonzaso. Per quanto riguarda invece Arsie, ristrutturazione media. Oggi si aprono le buste. I lavori antisismici potrebbero poi partire in gennaio. Notizia adesso da Borgo Valbelluna. Detrazioni fiscali in bilico. Ora il mattone traballa. Denuncia di confedilizia dei proprietari immobiliari. Preoccupano i bonus a rischio e la fusione di imuetasi. All'incremento dei balzelli non corrisponde quello delle prestazioni a disposizione. Ancora da Borgo Valbelluna. Forcone contro la moglie. 19 mesi al marito violento. E ancora. La discarica abusiva a Villaghe non vidi chi portò ai rifiuti. Quintari dei rifiuti lungo la strada provinciale Madonna del Piave a Villaghe di Lentiai. Tre sono a processo. La sbarra Pietro Tressi, imprenditore lentiaiese, 51enne. Massimiliano Burlon, 48 anni, di Santa Giustina. E Cristian Cavallet, 44 anni, di Lentiai. Per tutti. Avvocato Francesco De Bona. Sono accusati di aver violato il codice dell'ambiente. E adesso invece il fatto di cronaca nera. ha trovato morto dopo tre coltellate, la verità solo dall'autopsia. Nel dolore i figli del gelatiere Felice Olivier che chiedono rispetto. Papà riposerà qui. Cordoglio di emozione a Castellavazzo, Longarone e Ponte per la scomparsa del gelatiere Felice Olivier trovato morto con la gola squarciata da tre coltellate e una profonda ferita alla nuca mercoledì mattina nella villetta Gruaro, nel Veneziano, dove abita la donna che stava frequentando. Michelina Gobbato, 63 anni, sul caso indaga la procura di Pordenone. Lunedì verrà effettuata l'autopsia sul corpo del gelatiere. Gli accertamenti sono stati fatti come se si trattasse di un omicidio perché gli investigatori non si possono permettere errori che possano inficiare nel caso lo sviluppo delle indagini. Tuttavia, a distanza di 48 ore a prevalere, sembra essere la pista dell'atto volontario. I dubbi residui saranno sciolti lunedì con l'autopsia. E proprio per questo i figli di Felice nel dolore non vogliono dire nulla. Non parla Thomas, 46 anni, di Longarone, che chiede rispetto. Faccio fatica a darvi delle risposte. Dice perché le risposte non ce le ho nemmeno io. Sto soffrendo come un cane da ieri mattina quando ci hanno contattati e ci hanno detto che papà era morto. Io sto a quello che mi dicono gli inquirenti, che al momento non sanno cosa sia accaduto. Ancora da Ponte, nelle Alpi Longarone, fermato con la droga in auto. Grazie, così ho cambiato vita. Era stato fermato all'uscita dell'autostrada A27 mentre rientrava da un viaggio nel quale forse si era procurato la droga. Aveva 4,456 grammi di Ascis sul sedile passeggero. Aveva anche tutto necessario per il confezionamento della droga. 37 bustine nuove di cellophane, grinder, filtri e cartine. Ieri mattina è stato condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale al termine del processo che si è celebrato con un rito abbreviato. Si tratta di un 39enne di Longarone che da quel giorno ha cambiato vita. Passiamo alla Gordino. In Valle di Gares, Cisci ha aperto il centro del fondo. Al Franco, Vanfro, Italio del Nastro per le piste, sono partiti gli allenamenti. È stato battuto l'anello da tre chilometri. I prossimi giorni ci sarà il completamento. Da Rivina Longo, Campolongo, Bec de Roches, la seggiovia pronta a girare per il 23 novembre, le Rosse saranno tirate a Puntino. Successivamente saranno in funzione la Burs, le Palle, Porta Viescovo, Fodoma, Ornella e Sola Rass. Da Selva di Cadore e Val Fiorentina, volontari sui sentieri, Canale d'Agordo, storie di criminalità in biblioteca. Domani alle 20.30 è stato organizzato un confronto tra protagonisti a vario titolo di fatti di mafia. Notizia adesso da Cortina. Pieste da sci, prese d'assalto, ma è turismo a morti e fungi. Le abbondate nevicate di questi giorni stanno richiamando frotte di appassionati, alberghi aperti a macchia di lopardo. Molti operatori attendono l'immacolata. E sempre da Cortina, attenti, vi bruci il rifugio, 50enne paga con 17 mesi. Ieri Sergio Versi è stato condannato per maltrattamenti. Ancora da Cortina, Faloria, gli impianti apriranno fra una settimana. E ancora, affari economici parrucchiali, il Consiglio rinnova i membri. Notizia adesso da Auronzo. Questa è la foto che ha aperto la prima pagina di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Strada delle tre cime, piovono euro. Nelle casse del comune, 2.300.000 euro dai pedaggi estivi, riscossi per salire da Misurina ai ghiaioni di Lavaredo. A flusso maggiore delle previsioni, grazie al meteo favorevole, l'avvio ritardato della stagione aveva indotto conti più prudenti. Posteggio selvaggio sulle sponde del lago d'Antorno, dove non esiste la regolamentazione, ogni angolo è buono. Questo invece riguarda la situazione caotica che si vive andando sul lago di Misurina. Posteggi limitati, lunghe file e vincoli tecnici al lavoro per risolvere il rebus. Municipio, regole e regione studiano una serie di ipotesi che tutelino l'ambiente senza penalizzare gli operatori turistici. D'Auronzo a Pieve di Cadore, Stadio del Ghiaccio, sconti a chi va in pizzeria. Il comune fissa le nuove tariffe per favorire l'uso maggiore della struttura, bonus anche alle scuole. E a proposito di sport, alle rappresentative Feltrine, tre successi di squadra su quattro centinaia di concorrenti impegnati ieri mattina nella finale provinciale degli studenteschi di Cross. A parte il Galilei, Tiziano al top con gli allievi, primeggiano dal Piazza, Pedavena e Santa Giustina. Ancora sport, hockey, cortina superlativo nel Lacedelli Show. Per una sera anche capitano, l'azzurro dell'Afro firma una grande tripletta, trascinando un collettivo dinamico e motivato, prima rete del giovane Faloppa. 6 a 1, il risultato finale tra Afro Cortina e Vipiteno. Dallo sport all'agenda del Gazzettino, insieme si diventa grandi, seconda edizione della manifestazione che il comune di Belluno e diverse associazioni promuovono coinvolgendo gli studenti. C'è posto per tutti nel calendario di Voglio diventare grande, la seconda edizione della rassegna firmata dal comune di Belluno in collaborazione con un gruppo nutrito di associazioni e in astri di partenza per maggiori informazioni. Visitate il sito del comune di Belluno. E ancora per la cultura, Mirabiglia, Donomiti, dall'arte al turismo, una quarantina di aziende coinvolte nella nuova iniziativa. Uno strumento di comunicazione in auge sin dal XII secolo in poi, ma declinabile secondo le moderne tecnologie, nasce così Mirabiglia, Donomiti, un progetto di promozione turistica che prende le mosse dal mondo dell'artigianato artistico per rendere noti luoghi e caratteristiche del patrimonio culturale del territorio, lanciando una rete operativa che attualmente annovera una quarantina di aziende del settore in provincia di Belluno. Lupo, Slow Machine espone le opere di Viso, apre oggi Lupo Vernissage alle 18 in via del Piave 4, a sede della compagnia Slow Machine, così la sesta edizione della stagione teatrale Belluno-Miraggi parte con una piccola esposizione dell'artista che ha curato l'immagine del calendario di spettacoli 2019-2020. Per maggiori informazioni www.slowmachine.org. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno, una edizione dedicata come sempre alla lettura del Gazzettino di Belluno, ma prima di salutarvi diamo uno sguardo alle previsioni del meteo per quanto riguarda la giornata di domani. Vediamo che cosa ci aspetta, instabile ma con ulteriore e forte peggioramento quando le piogge potranno risultare molto abbondanti sui settori medionali alpini e prealpini. Questa è la situazione per domani in Veneto. È davvero tutto per Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 domani mattina a luna, sempre domani invece puntuali come sempre con la diretta delle 8 e mezza del mattino, ora locale italiana, domani leggeremo assieme il settimanale L'Amico del Popolo. A tutti voi un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel mondo.